Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Manifestazione questo pomeriggio in piazza di Porta San Giovanni dalle 14.30 alle 19.30. Sono attese 5.000 persone e si raduneranno per protestare contro l'obbligo dei vaccini e il Green Pass. Già pronto il piano delle eventuali deviazioni per nove linee del trasporto pubblico che transitano nella zona in caso di chiusura al traffico sia nella piazza sia nelle strade vicine. Gli aggiornamenti si potranno seguire sul sito romamobilita.it e sul profilo twitter Roma Mobilita. Le altre notizie preferenziale chiusa tra piazza Barberini e Largo del Tritone la prossima settimana inizia una nuova fase di lavori in via del Tritone a cura del Dipartimento Capitolino per la manutenzione urbana. Da martedì 18 gennaio la strada sarà chiusa da piazza Barberini verso Largo del Tritone e le linee bus dovranno cambiare percorso. 12 collegamenti saranno deviati. Le linee 52 e 53 invece limiteranno le corse a piazza Barberini. Anche in questo caso maggiori dettagli sul sito romamobilita.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.